Ciao ragazzi! Benvenuti al tunnel di Greenwich, una struttura di ghiaccia. Nell'interno di la struttura c'è il cartisarc, un volto vecchio. Nell'interno di la struttura c'è il pier Greenwich, il porto di Greenwich, e un piatto dove puoi mangiare e mangiare. Ora, vai all'entranza. Questa struttura c'è l'entranza di questo tunnel, e possiamo vedere una struttura simile, all'altra parte del river, e questo è l'entranza del tunnel. Possiamo andare ora. Ora andiamo nella struttura di dom, vediamo che questo tunnel è aperto ogni giorno per 24 ore. e per andare sotto, possiamo usare le strutture, o il lift. Ma abbiamo usato il lift perché siamo arrivati. Ora siamo sotto le tappi, dentro del river, dentro del tunnel. Questo tunnel è molto lungo, e per ogni altra struttura prende circa 8 minuti. È usato ogni giorno da molti persone perché pensano che sia utile e anche perché sia libero. l'atmosfera è molto struttura, come un'ora di film, e puoi sentire molti suoni, come l'eco, e l'acqua delle tappi. Questo è l'end di questo video. Vai, vai, l'Italia, 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 l'Italia e l'Berlusconi!